Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Fare attenzione per vento forte segnalato sulla A12 e sulla FIPILI. Sulla A1 per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e il ronco bilaccio. Sulla FIPILI fino al 28 febbraio per lavori al viadotto Stagno, chiusura della carreggiata all'altezza del chilometro 76 nel ramo di Livorno. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. A causa delle avverse condizioni meteo potrebbero esserci ritardi o cancellazioni nei collegamenti con le isole. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!